Salvo per miracolo, il conducente dell'autocisterna che stamani intorno alle 6 del mattino ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell'asfalto viscido, finendo fuori strada. In 20 anni di attività, ci dice l'autista fuori microfono, non mi era mai capitata una cosa del genere. Il conducente è rimasto fortunatamente illeso e non sono stati coinvolti altri mezzi. Temporaneamente chiusa fino a rimozione dell'auto articolato in entrambi le direzioni, la strada statale 81 in località Piceno a Prutina, al chilometro 130 in località Cepagatti. Sul posto la polizia per i rilievi del caso, i vigili del fuoco, i vigili urbani, i carabinieri, naturalmente la ditta incaricata di rimuovere l'auto articolato per far sì che possa riprendere la normale circolazione.